Ciao a tutti, benvenuti. Volevo comunicarvi un video molto breve per comunicarvi un piccolo cambiamento che vorrei fare nella mia programmazione dei miei video. Sicuramente lascerò come caposaldo il video delle previsioni settimanali del giovedì, quindi quello non lo tocca nessuno. Ci sono poi i video scegli una carta, che sono i tarocchi interattivi in cui vi faccio scegliere una carta, con domande di ogni tipo. Va bene? Quindi video scegli una carta che solitamente sto pubblicando il sabato, ma insomma voglio essere libera di cambiare, magari su un sabato non lo faccio, ma lo farò la domenica. Vedrò un attimino. Comunque, il giovedì previsioni settimanali continuerò a fare, per quanto mi sarà possibile naturalmente, i video scegli una carta, come vi stavo dicendo, che sono video che rispondono ad una domanda specifica. Ecco, mettiamola così. Ora, il nocciolo è il video che io sto pubblicando ogni lunedì, quello di lui e lei. Quindi ho intenzione di cambiare un attimino. Perché, mi direte voi, sono video che piacciono, a me piace naturalmente farli, a voi piace seguirli, quindi non è che lo tolgo. No, 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 state tranquilli, tranquille, non ho alcuna intenzione di toglierli. Però, vorrei cercare di cambiarne un pochino il format, nel senso che, mi spiego meglio, siccome sono video che mi parlano sempre e comunque di una settimana, cioè vado a vedere in quella settimana cosa accade fra le due persone, mi sembra, non so, ditemi anche voi cosa ne pensate, mi sembra a volte un pochino una ripetizione di quello che sono le mie previsioni della settimana. No, perché il giovedì io vi parlo di una settimana in generale e ovviamente se c'è qualcosa di nuovo che accade, faccio un esempio, se io vedo che arriva il messaggio da un tizio, io ve lo ripetisco anche il lunedì, ok? Dove vi parlo del lui e lei e vedo che purtroppo ancora non viene capito che questi video lui e lei non mi parlano di una coppia, ma mi parlano appunto di un uomo e di una donna o di più uomini e più donne, bla bla, ve l'ho già spiegato, non mi ripeto. Ora, quindi, ditemi voi cosa vi piacerebbe di più fare. Ripeto, non ho alcuna intenzione di toglierli, no, però magari li volevo mettere sotto forma più di interattivo, tipo andare a chiedere invece che chiedere cosa accadrà fra lui e lei durante la settimana, che mi pare, bene o male, una ripetizione, come vi stavo dicendo, dei miei video, delle previsioni settimanali del giovedì, magari metterli o sotto forma di un messaggio o sotto forma, insomma, più come un interattivo, togliere diciamo questa data settimanale, quindi video che io faccio che rimarranno validi naturalmente dal momento in cui voi li vedrete, cioè togliere proprio il discorso previsionale settimanale. Non so come è meglio spiegarmi, ok? Quindi il video rimane, pressappoco rimane quello, però non vado più a vedere cosa accadrà in quella specifica settimana fra le due persone. Quindi ho voluto avvisarvi, se vedrete che questi miei video dell'uomo e della donna, di lui e lei, cambiano formato e magari anche giorno di pubblicazione, ora vedrò, non avrò più una cadenza settimanale, boom, 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 ma li pubblico quando mi viene, ok? Però saranno validi per sempre, una sorta di tarocchi interattivi come quelli di scegli una carta, che non hanno una tempistica precostituita. Spero di essermi spiegata, spero di essermi spiegata bene, ok? Io credo di fare una cosa, poi proviamo ragazze, per l'amor di Dio. Qui si prova, se si vede che il discorso invece non è, si può sempre ricambiare, nessuno lo vieta. Prendo questa occasione per ricordarvi che siccome mi dite, ma Penelo perché bello sei tornata, ma veramente io non sono mandata via. Quando vi iscrivete e fate iscriviti al canale, dovete anche cliccare sulla campanellina che c'è accanto alla parola iscriviti, oppure iscritto, se sei già iscritto, devi cliccare sulla campanella. Con quella campanellina ti arriverà la notifica, YouTube ti avviserà, ti arriverà tipo il messaggino in alto, dove vedi che io ho pubblicato un video. Se non fai questo, tu non vedrai mai quando io pubblico nuovi video, te ne accorgerai solo quando verrai a cercarmi il Penelo per le sue carte e vedrai i nuovi video che ho messo. Quindi questo è importante, ricordatevelo, è quando vi iscrivete o se sei iscritto vai a vedere se hai cliccato. Detto questo, proseguiamo, andiamo avanti, fatemi sapere le vostre opinioni qua sotto nei commenti che per me sono importanti. Un bacione a tutti, ciao!